musica Eho eho andiamo a lavorare andiamo a lavorare andiamo a lavorare dobbiamo posare i pacchi regali per i bambini di tutto il mondo si ragazzi noi siamo lui e lei e Sofì e insieme siamo in me contro te Elfi come avete notato non abbiamo dei capelli normali ma da Elfo e anche il nostro abbigliamento non è affatto normale questo perchè Babbo Natale ci ha incaricato di sostituire Due dei suoi elfi che si sono ammalati Per preparare i regali di Natale E regalarli a tutti i bambini del mondo Inizialmente abbiamo accettato perché pensavamo Fosse molto semplice però poi beh Ci siamo resi conto che è un lavoro Molto duro E il problema E il mio caro babbo Natale è che noi Ci dobbiamo preparare per lo scontro finale Contro il signore S Noi quindi non abbiamo il tempo per andare in giro